...importante quando Juventus ha l'obiettivo di fare 4 su 4, 4 vittori in altre tante partite, sarebbe un inizio migliore possibile, immaginabile. Affronta una formazione molto interessante, come... Coca-Cola... ...tornare la patata tutta... ...un dentino che sovano da cuida, wei! ...I look good, I look good! ...what do you think? ...my friend? ...he-he! ...Shining? ...Shining?